La riconciliazione è una priorità della Chiesa del Rwanda, 20 anni dal genocidio che ha sconvolto la vita del paese africano. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo Vivescovi al termine della visita ad Limina. Al di là dei pregiudizi e delle divisioni etniche, in un paese diviso, ha detto il Papa, è importante che la Chiesa parli con una voce sola per manifestare la sua dignità e comunione con la Chiesa universale. Ed anche il prossimo cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Chiesa e Stato possono diventare un modo per ricordare i benefici dell'armonia tra tutte le componenti della società. A questo proposito Papa Francesco ha ricordato che la Chiesa lavora per il bene comune ed ha sottolineato l'importanza di famiglie autenticamente cristiane. Un'altra delle priorità indicate dal Papa è nella formazione dei laici attivi nelle comunità di base, nelle opere sociali, nell'evangelizzazione.